Ciao ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi stiamo in compagnia con JulbyGitos3.0 Iscrivetevi alla campanella E mettete like Che sta dicendo? Mettete like e iscrivetevi al suo canale se volete al mio Che vi ho appena detto come mi chiamo E lo ripeto JulbyGitos3.0 Iscrivetevi al suo canale Matteo, ciao Poi mettete like al suo video Poi attivate la campanella sia nel mio canale sia nel suo E oggi faremo il video troppo emozionante Di chi fa le scorreggie con le mani più forti Allora ragazzi Iniziamo la challenge Aspettate che posizioni il telefono La camera Scusate ho sbagliato Ok ragazzi Ora Tocca prima a me perché io No fai Inizieremo Tocca prima a me Inizio io Inizio io Allora Ecco qui Allora Due se ne fanno No No tocca a me No tocca a me Ora tocca a me Tocca Giulio Quanto fai Questa è la mia prima scuola Questa è la mia prima scuola E poi non c'è stile La buccia Non ce la sente Devo fare la mia seconda Ma che schifo Giulio Mi siedo perché non c'ho voglia di stare in piedi E perché tu sei Cuccio vecchio Cuccio vecchio Tocca mi fai Il re scorreggiante Il re scorreggiante Il re scorreggiante Il re scorreggiante Era caduto Tocca la telecamera Era caduto Tocca la telecamera Non c'è No Questo è il fag È tutto il fag